Nessuno si sta divertendo a chiudere le scuole, noi ci muoviamo anche sulla base di consigli da parte del Comitato Tecnico Scientifico e ci confrontiamo ogni giorno. È ovvio che le scuole sono uno dei principali veicoli di contagio e quindi su questo c'è un'attenzione particolare. Scuole chiuse dalla seconda media in su in Veneto orientale. Il superamento di 250 casi di Covid-19 ogni 100.000 abitanti comporta il ritorno della didattica a distanza per molti studenti della zona est della città metropolitana di Venezia. Un provvedimento adottato anche in altri tre distretti del Veneto, Asolo, Termecolli e Alta Padovana e prossimamente anche a Belluno. Iniziamo a geolocalizzare determinate aree del nostro Veneto, quindi ci sarà un'attenzione particolare sui vari distretti che abbiamo sul territorio in modo da non creare delle zone rosse generalizzate ma focalizzate sui singoli territori. In Veneto l'attenzione sull'evoluzione della pandemia nelle scuole era massima già dal primo febbraio, dopo la riapertura delle lezioni in presenza al 50% alle superiori. Con questo lavoro di monitoraggio continuo possiamo garantire prima di tutto alle scuole di poter continuare a lavorare e in quelle zone dove ci sono dei casi particolari o dei focolai possiamo creare delle mini zone rosse però ovviamente molto localizzate quindi che permettono sia la chiusura delle scuole dalla seconda media in su però solamente a quel territorio, a tutta magari l'area o alla provincia piuttosto che alla regione.